benvenuti a un nuovo appuntamento con qua la zampa questa sera parliamo della gravidanza e del parto del cane innanzitutto ricordatevi che se avete una femmina in gravidanza cercate di prepararle un posto adatto e tranquillo al parto e portarla lì almeno un paio di settimane prima del parto questo aiuta lei a ambientarsi e quindi a sviluppare maggior senso materno proprio come se fosse una tana ricordando un po quello che sono gli antenati del cane cioè il lupo questo punto vi ripeto la rende molto più tranquilla e familiare con l'ambiente dove riuscirà poi a partorire con maggior tranquillità il cucciolo il primo cucciolo che nasce generalmente compare dopo due ore dalla rottura dalle acque e possono passare anche due ore dopo il primo cucciolo prima di vedere il successivo un parto normale dura 5 o 6 ore anche se parti languidi quindi anche un po difficili possono durare anche molto di più ricordate che è importante la dieta nella canna sia durante la gravidanza che in lattazione soprattutto durante la lattazione il mangime quindi le crocchette o il tipo di alimentazione che utilizzate per la vostro cane deve avere almeno il 20 per cento di proteine questo farà sì che la canna riuscirà a produrre latte sufficiente per la nidiata proprio per i propri cuccioli questo faciliterà quindi una ottima crescita del cucciolo che arriverà allo svezzamento durante proprio intorno al cinquantesimo sessantesimo giorno pronto per appunto cambiare casa e essere adottato dalla nuova famiglia vi do appuntamento la settimana prossima arrivederci ciao